Le polemiche sull'isola ecologica che sorgerà ad Agropoli in località a Malagenia non si placano, anzi si aggiungono altri particolari alla questione. Dopo le parole del consigliere d'opposizione Agostino Abbate a parlare ai nostri microfoni, questa volta il sindaco Adamo Coppola, in risposta alle critiche arrivate nei confronti dell'amministrazione. Il sindaco ha prima risposto alle critiche sul prezzo per l'acquisizione del terreno su cui verrà costruita all'isola ecologica, chiarendo che si tratta di 100.000 euro per 8.000 metri quadri per un terreno pianeggiante fronte strada su cui è possibile intervenire semplicemente e lo ha definito come un affare per il comune. In seguito ha parlato dell'utilità dell'isola ecologica, spiegando che i tempi di attesa per il ritiro dei rifiuti sarà praticamente nullo e che i rifiuti non rimarranno in quell'area ma verranno trasferiti immediatamente. Secondo Coppola, l'opposizione si oppone alle cose buone per la città ma non alle cose cattive. Il sindaco di Agropoli, proseguendo, parla anche della questione del ricorso al TAR di Salerno effettuato dal comune di Iastro Cilento riguardo l'isola ecologica e tuona contro il sindaco Michele Apolito. In prossimità della nostra isola ecologica, lato Iastro della zona industriale, ci sarà la costruzione di un impianto di biometano dove arriveranno reflui zootecnici e fognari. Mi viene da pensare che il problema è cercare di far fare brutta figura al sindaco di Agropoli. L'isola ecologica non va bene, ma l'impianto di biometano va bene. Abbiamo il ragionamento. Cosa dovrei fare io ora sindaco di Agropoli? Mentre il sindaco di Orleastri ha fatto richiesta di accesso agli altri di un comune di Mitrofo, il nostro, ha fatto ricorso al TAR di Salerno, cosa dovrei fare io? Dovrei richiesta di accesso agli altri per capire che sta facendo lui nella sua zona industriale? Dovrei cominciare un ricorso al TAR perché mi preoccupo che cosa può portare questo impianto di biometano che sta facendo costruire nella sua zona industriale? E quale rischio e pericolo può portare questo impianto di biometano che sta facendo costruire lui? Allora, se vogliamo fare la rincorsa, la polemica, a gridare al lupo al lupo, lo sappiamo fare tutti. E tutti quanti possiamo ottenere i risultati. Perché gridando a pericolo, questo impianto di biometano cosa ci porterà? Questo lo possiamo fare, ma se lo facciamo non facciamo altro che fare confusione, danni, no? Io non lo faccio. Però non voglio neanche che venga fatta a noi, non voglio neanche che venga fatta al Comune di Agropoli. L'isola ecologica non è una cosa negativa, è una cosa utile alla città, non porterà cose negative, non porterà rifiuti, non porterà niente di tutto questo. Ci sono in tutti i comuni, anche nel Comune degli Astri ci sta l'isola ecologica. Adamo Coppola conclude rivolgendosi ad Agostino Abbate e al sindaco di Ogliastro Cilento chiedendo di rimanere seri perché l'isola ecologica non sarà niente di negativo per la città.